Che seduti a tavola davanti a un buon pasto gli accordi politici vengano meglio è cosa ormai risaputa e su questo c'è chi, come il governatore della Toscana Eugenio Gianni, ne ha fatto un tratto distintivo. Non c'è da stupirsi dunque se la sua ultima dichiarazione, tutt'altro che ingenua, sia arrivata tra un antipasto e il primo. Era stato così per il cosiddetto patto della bistecca, siglato tra Gianni e i sindaci della Piana e di Prato, che garantiva soprattutto l'accordo elettorale sul Sesto Fiorentino e in teoria una tregua sull'aeroporto. Ma per questa occorrerà probabilmente un'altra portata, perché il sindaco di Sesto Falchi e il presidente della regione sono ancora molto distanti e lo hanno ribadito ieri sera in un confronto pubblico. Ma, dicevamo, dalla bistecca si è passati nel weekend all'Aragosta, ristorante di Scandicci, in cui Gianni ha senza mezzi termini candidato la sua assessora all'ambiente, Monia Monni, a sindaco di Firenze. Una doppia mossa astuta del presidente, da una parte sgombrare la regione da una possibile sua competitor nel 2025, dall'altra dare una sponda importante a Lischlein, di cui Monni è amica e delfina. Lo sgambetto, semmai, Gianni l'ha fatto a chi oggi e negli ultimi dieci anni ha guidato la città da Renardella, che tuttavia, sbollita la rabbia, starebbe riflettendo sull'ipotesi e soprattutto sul peso che un suo sì alla proposta Monni potrebbe avere come contropartita, magari in una possibile candidatura alle europee. Insomma, piaccia o no, l'inquilino di Palazzo Strozi Sacrati ha dato una sonora spinta a quello scacchiere che rischiava di impolverarsi. Con Monni in campo e insieme a lei Sara Funaro, Rosa Maria Di Giorgi e Cecilia Del Re e c'è chi aggiunge anche Simona Bonafè, il dream team delle donne candidate a Palazzo Vecchio per il 2024 è completo, soltanto che il sindaco è uno solo e il PD rischia di farsi molto male se non trova una sintesi in tempi brevi. Per farlo servono primarie, c'è chi lo teme, viste le scorie che in alcuni comuni hanno portato addirittura alla sconfitta. Sarà compito delle segreterie, soprattutto di quella regionale, comporre il puzzle, anche perché la piazza di Firenze, che è realmente contendibile e non lo è mai stata, rischia di essere il banco di prova decisivo per la classe dirigente del partito, che qui si gioca la sfida anche sulle percentuali. Uno scarso risultato o addirittura il ballottaggio in una delle roccaforti d'emme apparirebbero come segno di grave debolezza e, visto il vento che tira, la destra sta cominciando a pensare che non tutto va dato per perso. Insomma, affrettarsi a concludere il pasto, perché il conto potrebbe essere molto salato.